Abbiamo avuto due ore di play-off finale di basketball junior arrivato alla canzone di Aruba Juniors. E Floyd Mayweather Jr. e Manny Pacchiava generano 600 milioni di dollari di una pelea di 12 mesi passati. Secondo la rivista Forbes, questi fanno anche ambos boxdota e deportisti non hanno il miglior pagato del 2015, ma su Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Abbiamo anche anche l'RBC, il sponsor di Aruba Lett League, quattro leggi che loro rappresentano Aruba in Caribe. Royal Bank è contento di aver guardato il tuo lavoro e di continuare il suo apporto grande per il programma di Aruba Lett League. Abbiamo visitato un banco che ha avuto il progetto che ha enfocato il desarrollo della juventud e noi stiamo orgoglioso di che sta cooperando già per il nuovo anno consecutivo con il programma di Lett League. Aruba su sponsorship e ha avuto il gasto di uniforme di quattro liga in cui è la categoria di Lett League, Junior League, Senior League e anche l'Big League. E anche l'Arbisita aiuta e liga con il parte finanziario complementario per aiuta a cubri il gasto di viage per il differente campionato di l'exteriore. Mi chiedere felicità e se leccione e anche la diretiva di Aruba Lett League per il tremendo lavoro che voi stai facendo. E'o bene anche un esempio per la juventud non solo di Aruba però anche l'exteriore che non sta rappresentando Aruba. Nostra spera che voi stessi di sviluppare voi stessi sanamente e che voi stessi attraverso per realizzare voi metano. Di parte di RBC Royal Bank nostra spera che voi stessi una classe di èxito di Eweganan Cutabini. Nostra sicur che voi stessi un buon trabalho e lo tene Aruba su nommer Nahalto. Ho pi, ho pi, orgulloso e satisfecho di a cooperazione con RBC Bank sempre adonare il programma bonita di Lett League. Palabra ma chama chati d'ang per Bolsonaro mi ti spera che un altro anno costa il derecho non ti che si. Esponsor non ti che mas. Accitona turre quattro lì che non lo vai defender Aruba del exterior. Copa America è come sale e Chile Ecuador stanno in un momento che c'è l'ambiente di Copa America di Dianna che c'è il Mundial di Dama di Dama di Dama che c'è il